Controlli della polizia nell'Isseno 25 segnalazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti Caltanissetta annuncia gesto estremo tempestivo l'intervento della polizia Furto di 150 litri di gasolio indaga la polizia L'assessore regionale alle attività produttive sarà a Caltanissetta nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio Edita Maio incontrerà gli imprenditori per presentare i bandi bonus energia Sicilia e ripresa Sicilia Covid, bollettino settimanale, nuovi casi in calo I tassi più elevati rispetto alla media regionale osservati nelle province di Agrigento, Siracusa e Ragusa Bentrovati studio con l'edizione di oggi del telegiornale Apriamo parlando di cronaca, controlli della polizia nel Nisseno 25 segnalazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti I dettagli nel servizio Nelle ultime settimane sono 25 le persone segnalate nel corso dei controlli di polizia eseguiti sul territorio della nostra provincia e sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale Ai predetti i poliziotti hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina L'uso personale di sostanze stupefacenti è sanzionato amministrativamente con la sospensione della patente di guida dei certificati di abilitazione per la guida di motoveicoli e ciclomotori con la sospensione della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente si tiene conto della quantità della sostanza che non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con il decreto del Ministro della Salute ed è la modalità di presentazione delle stesse avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato e ad altre circostanze La persona trovata in possesso di sostanza stupefacente viene segnalata al prefetto ed è invitata a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze Caltanissetta annuncia gesto estremo, tempestivo l'intervento della polizia Qualche giorno fa nella sala operativa della questura è pervenuta la chiamata di una donna la quale con respiro affannoso e in evidente stato di agitazione minacciava di suicidarsi Il poliziotto in servizio, resosi conto della situazione, ha sin da subito cercato di tranquillizzare l'interlocutrice chiedendole se si trovasse in casa da sola e se i collegi fossero minori L'agenda, assicuratosi che non vi fossero altre persone esposte a potenziale pericolo nel tentativo di distogliere la donna dei suoi indenti autolesionisti ha instaurato con la stessa un dialogo chiedendole motivi del suo malessere e ottenendo l'indirizzo di casa L'interlocutrice, in quei concitati minuti ha più volte tentato di interrompere la comunicazione telefonica riferendo di compiere un gesto estremo ma il poliziotto ha continuato ad attirare la sua attenzione con qualsiasi tipo di espediente tenendola impegnata al telefono per consentire all'equipaggio di una volante di arrivare nell'abitazione anche quando gli agenti della volante sono giunti dietro la porta dell'appartamento della donna il poliziotto l'ha convinta ad aprirla per consentire ai propri colleghi di entrare in casa una volta dentro l'appartamento i poliziotti della volante, adottando tutte le cautele del caso e con non poca fatica sono riusciti a disarmare la donna che brandiva un grosso coltello minacciando di procurarsi lesioni dopo averla messa in sicurezza e ulteriormente rassicurata gli agenti hanno affidato la paziente alle cure del 118 giunto nel frattempo sul posto E ancora cronaca furto di 150 litri di gasolio indaga la polizia Qualche giorno fa uno spiacevole episodio si è verificato a Canicattì in provincia di Agrigento gli hanno rubato circa 150 litri di gasolio e per il proprietario della ditta di autotrasporti e movimento Terra un uomo di Canicattì di 56 anni si tratta del quarto furto subito episodio che l'uomo ha denunciato alla polizia di stato del commissariato cittadino il furto si è realizzato nelle scorse settimane nel deposito di mezzi che ha recintato anche se non totalmente probabilmente, proprio dalla parte retrostante laddove manca la recinzione protettiva i ladri si sarebbero intrufolati senza essere visti e sentiti consumando il furto l'episodio si è verificato in totale segreto nonostante la presenza dell'impianto di illuminazione che non è servito a scoraggiare i ladri inoltre non ci sono impianti di videosorveglianza a tutela del deposito della ditta particolare che complica le indagini della polizia del commissariato del comune in provincia di Agrigento iniziate tempestivamente subito dopo lo spiacevole episodio e adesso parliamo del reddito di cittadinanza aumentano i controlli incrociati dopo il protocollo operativo siglato da IMSS e Ministero della Giustizia siglato un protocollo operativo tra IMSS e Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP lo scorso 20 gennaio questo strumento permetterà di intensificare i controlli sui richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza nel rispetto della normativa sulla privacy potrà essere effettuata una verifica mensile automatica tramite sistemi di interoperabilità e una modalità strutturata di scambio dati dell'eventuale stato detentivo dei richiedenti il reddito di cittadinanza prima dell'erogazione del beneficio si precisa grazie al protocollo l'IMS potrà oltretutto in automatico revocare e recuperare la prestazione non dovuta in caso di omessa dichiarazione facendo riferimento all'articolo 7,10 del decreto legge numero 4 del 2019 con il nuovo protocollo prosegue l'intensa collaborazione tra IMSS la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziere del Ministero della Giustizia si legge nel comunicato finalizzato al potenziamento delle verifiche sulle prestazioni erogate dall'Istituto ancora una volta la pubblica amministrazione lavora in squadra a servizio della collettività e applicando la tecnologia migliora la qualità dei propri servizi L'assessore regionale alle attività produttive sarà a Caltanissetta nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio per incontrare gli imprenditori e presentare i bandi Bonus Energia Sicilia e Ripresa Sicilia Il sostegno e l'incremento da parte del governo Schifani del brand Sicilia nel mercato globalizzato continua a essere la stella polare della politica del centrodestra nell'isola giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 17 presso la Camera di Commercio di Caltanissetta l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamayo incontrerà gli imprenditori della provincia nissena e presenterà i bandi Bonus Energia Sicilia e Ripresa Sicilia L'evento che è compreso nel tour che si svolgerà presso le sedi delle Camere di Commercio Siciliane è stato programmato dall'assessore per incontrare gli imprenditori dell'isola conoscere le esigenze delle aziende siciliane e presentare le due misure messe in campo dal governo Schifani Il tour programmato che parte giovedì 26 dalle sedi di Catania e Messina è propedeutico per conoscere le istanze e i problemi del territorio attraverso gli imprenditori e le parti sociali ha detto l'assessore Tamayo e per dare massima diffusione ai contenuti dei due importanti bandi disposti dal mio dipartimento Tamayo ha evidenziato altresì come tale finanziamento possa essere un'occasione di sviluppo e di supporto per le imprese attraverso strumenti finanziari finalizzate ad aumentare le capacità di competere nel mercato globale Andiamo adesso al bollettino settimanale nuovi casi covid in Sicilia in calo i tassi più elevati rispetto alla media regionale osservati nelle province di Agrigento, Siracusa e Ragusa Ci sono buone notizie per quanto riguarda il fronte del covid il bollettino settimanale infatti indica un netto calo per i nuovi casi con conseguente diminuzione delle ospedalizzazioni nella settimana dal 16 al 22 gennaio si è registrato in Sicilia un netto calo delle nuove infezioni da covid-19 in linea con la tendenza nel territorio nazionale si segnala una diminuzione del 46,55% dei casi positivi rispetto alla settimana precedente con un'incidenza di 84 casi ogni 100.000 abitanti le province con la media regionale più alta sono state Agrigento Siracusa e Ragusa mentre le fasce d'età maggiormente al rischio risultano sempre quelle tra i 69 e gli 89 anni i dati sono stati pubblicati nell'ultimo bollettino settimanale a cura dell'assessorato della salute della regione siciliana in base a quanto riportato nel documento le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione e più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia i dati aggiornati al 24 gennaio ci dicono che i bambini con ciclo primario completato sono il 20,12% nella fascia over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,95% mentre l'89,58% ha completato il ciclo primario sono ancora circa un milione i cittadini che pur avendone diritto non hanno effettuato la terza dose inoltre i vaccinati con dose booster sono il 72,39% complessivamente in Sicilia sono state effettuate 236.313 somministrazioni di quarta dose di cui 208.284 a persone sopra i 60 anni le quinte dosi invece sono state 8.267 la guardia di finanza di Caltanissette ha risposto all'appello di solidarietà del Rotaract Club di Caltanissette in favore dell'associazione Sant'Agata il club che da tempo aderita al progetto distrettuale lo scrigno dei sogni ha infatti assunto il ruolo di intermediario in un certo senso tra le due realtà le fiamme gialle nissene infatti guidate dal colonnello Stefano Gesuelli ieri pomeriggio 25 gennaio si sono recate presso i locali in cui opera l'associazione Sant'Agata accanto alla chiesa da cui prende il nome in corso Umberto I portando giocattoli donati dai militari e capi di vestiario che sarebbero il frutto di un'operazione anti-contraffazione di cui è stata autorizzata si legge nella nota del club la devoluzione dalla procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta e adesso parliamo della regione siciliana approvato il rendiconto 2021 è tempo di conti in Sicilia la regione ha approvato il rendiconto del bilancio 2021 con grande soddisfazione da parte dell'esecutivo di Renato Schifani il governo ha dato il benestare alla rendiconto 2021 mettendo nero su bianco numeri in chiaro miglioramento per la regione voglio citare a titolo esemplificativo tre dati l'indebitamento rispetto al 2020 passa da 6,8 a 6,1 miliardi mentre al contrario aumentano i pagamenti effettuati da 18 milioni nel 2020 a 23,5 nel 2021 ha detto l'assessore all'economia Marco Falcone commentando l'approvazione del rendiconto 2021 in giunta sono risultati a concluso su cui il governo regionale intende costruire un equilibrio finanziario sempre più virtuoso e certo stiamo mandando avanti continuo invece il governatore Renato Schifani un'azione decisa e proficua di regolarizzazione dei conti della regione grazie alla quale potremmo essere reattivi rispetto alle esigenze sociali ed economiche della Sicilia inoltre l'allineamento degli strumenti finanziari ci consente di fruire di opportunità quale il potenziamento della macchina amministrativa attraverso lo sblocco delle nuove assunzioni e la prospettiva di nuovi finanziamenti è stata sottoscritta nei giorni scorsi la convenzione tra il comune di Santa Caterina Villa Armosa e la Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta per una nuova sede presso il comune di Santa Caterina Villa Armosa per l'appunto le chiavi sono state consegnate dal sindaco Giuseppe Ippolito al presidente della Croce Rossa Italiana Nissena Nicolo Piave l'immobile di piena proprietà comunale concesso incomodato d'uso gratuito per tre anni si trova al pieno terra con annesso servizio igienico in via Roma 106 la Croce Rossa Italiana si è impegnata anche a pianificare e implementare iniziative volte alla tutela e alla promozione della salute nonché all'assistenza sanitaria alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità caterinese Pace Minterris l'11 aprile l'11 aprile 1963 quando il pontefice era già gravemente malato è una delle encicliche più famose e dibattute e costituisce un inequivocabile mezzo di rinnovamento e cambiamento politico cui il pontefice aveva voluto dare inizio con la convocazione del concilio vaticano secondo la Pace Minterris è diciamo il testamento spirituale dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa di Papa Giovanni XXIII pochi mesi dopo la sua pubblicazione Papa Giovanni XXIII ci lascerà e quindi rimane come un documento storico di importanza fondamentale nella storia della Chiesa ma anche nella cultura contemporanea e abbiamo voluto ricordare al sessantesimo anniversario della Pace Minterris questo momento per riflettere non soltanto sul valore storico del documento ma anche sulla sua straordinaria attualità nel momento che stiamo vivendo di particolare tensione internazionale la Pace Minterris ci ricorda come il ruolo fondamentale della Chiesa che non è una Chiesa dell'Occidente o dell'Oriente ma è una Chiesa universale si rivolge a tutti i due uomini di buona volontà invocando la pace come dono del Signore siamo a 60 anni dalla Pace Minterris quindi dal momento in cui Papa Giovanni XXIII diede alla luce questo che poi in fondo fu il suo ultimo lavoro ed è un'occasione quanto mai attuale per riflettere sul problema attualissimo della pace che purtroppo investe tutto il mondo sembra quasi essere stato foriero il nostro Papa Giovanni XXIII di qualcosa di cui egli parla come molto vicino sebbene sia a quei tempi da poco finita la Seconda Guerra Mondiale perché viene pubblicata questa enciclica viene data alla luce nel 1963 e ancora oggi noi non soltanto desideriamo parlare di pace ma fare realmente qualcosa per evitare una guerra e adesso parliamo di musica il secondo appuntamento della 31esima stagione concertistica di musica arte al Teatro Margherita Sarà la giovane musicista poliedrica catalana Albar Mengu insieme al chitarrista Vincent Lopez protagonista venerdì 27 gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale Ricina Margherita di Caltanissetta dal secondo appuntamento della 31esima stagione concertistica dell'Associazione Culturale Musicarte organizzata con il patrocinio del Comune di Caltanissetta Albar Mengu che ha 23 anni nel concerto di Caltanissetta presenterà dei brani del nuovo progetto discografico nell'estimento Sussurros del Viento Alba nonostante la sua giovane età è già un idolo fra i gezzofili di tutto il mondo trombettista sassofonista e cantante Alba ha iniziato a suonare sin dall'età di 6 anni e a 8 anni iniziò ad insegnare i rudimenti della tromba sua sorella Ersa di 5 così giovane Alba ha già prodotto una quantità incredibile di video e dischi ed è già sulla scena da quando aveva 7 anni ed è estremamente interessante osservarne lo sviluppo rapidissimo delle capacità tecniche ed interpretative una voce ed una sintassi musicale che sembrano progettate per il jazz ma anche per la bossa nova suonare suonare come un brillante che partendo a luce explode in sete cores revelando in tal os sete mil amores che guardi somente per a ti dar Luisa 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 Un workshop all'interno del Liceo Ruggero VII di Caltanissetta con Elsa Piperno, la danzatrice e coreografa considerata la pioniera della danza contemporanea in Italia. Sono stati due giorni intensi per gli studenti del Liceo Classico, Linguistico, Coreotico e Artistico Audiovisivo Multimediale Ruggero VII di Caltanissetta. I ragazzi e le ragazze della scuola hanno potuto partecipare infatti ad un workshop con la danzatrice e coreografa considerata la pioniera della danza contemporanea in Italia Elsa Piperno. Un approfondimento sulla tecnica di Marta Graham che ha visto la partecipazione di alcuni studenti dei licei che fanno parte della rete dei licei coreotici siciliani. E sono state invitate anche le scuole di danza della città che hanno sottoscritto una convenzione per la promozione di iniziative legate al mondo della cultura e della danza. Dal momento che la tecnica di Marta Graham è basata sulla fisiologia del corpo e sui principi dell'universo, evidentemente questi sono quelli che io cerco di trasmettere. Poi per quanto riguarda in senso lato la trasmissione agli allievi io credo che avviene e deve avvenire attraverso quelli che sono i valori che ci sono nella società, i principi morali e diciamo tutto quello che c'è di positivo nella cultura e nell'arte. E quindi ecco questo è quello che io voglio trasmettere e cerco di trasmettere ormai da mezzo secolo. Sono stata definita erede della pioniera della danza moderna in Italia di Elsa Piperno e con grande orgoglio mi sono prefissa un obiettivo nella vita, quello di continuare a trasmettere questo linguaggio e far conoscere ai ragazzi le fondamenta di questa tecnica. Ovviamente già abbiamo iniziato lo studio della tecnica Graham ed è stato un grande orgoglio invitare la mia maestra nonché definita da me madre della mia anima danzante in questi giorni meravigliosi qui al liceo coreotico di Caltanissetta dove ci stiamo nutriendo di tanta tanta e meravigliosa energia vitale. Venerdì 27 gennaio in occasione della giornata della memoria Elsa Piperno sarà presente a scuola per raccontare la propria testimonianza di discriminazione subita e non solo. Io sono qua oltre che a testimoniare quella che è stata una mia personale vicissitudine anche per portare la testimonianza di Piero Terracina che è scomparso da non molto e che è uno dei superstiti del campo di concentramento di Auschwitz, è uno dei pochi sopravvissuti che ci ha lasciato poco tempo fa e che dopo essere stato per 30 anni in silenzio ha deciso negli ultimi vent'anni della sua vita invece di andare nei licei e parlare con i ragazzi. Lui ha parlato con migliaia di ragazzi e diciamo che io lo conosco molto bene perché è un mio zio acquisito e quindi lo conosco da quando sono bambina e questa persona è stata veramente straordinaria e quindi mi farà molto piacere in un certo qual modo essere portatrice anche della sua parola. La persecuzione degli ebrei e la Shoah sono il periodo più scuro della storia, la storia a noi più vicina e non possiamo dimenticarla nonostante passino i decenni, ecco perché abbiamo voluto cogliere l'occasione della presenza della professoressa Elsa Piperno per che i ragazzi possano cogliere una testimonianza diretta della discriminazione e possono capire come superarla, come vincerla, come fare che non accada mai più. La festa della conversione di San Paolo nell'omonima parrocchia, giorni di preghiera e di condivisione. Sono stati giorni di preghiera e di condivisione in occasione della festa della conversione di San Paolo nella parrocchia dedicata al Santo. Sono stati coinvolti i giovani del catechismo durante il triduo di preparazione ma anche le coppie che si sono sposate nel corso del 2022 e rinnovato le promesse matrimoniali e i genitori insieme ai bambini e bambine che sono stati battezzati l'anno scorso. E tra la celebrazione della Santa Messa e un po' di musica, mercoledì 25 gennaio è stata organizzata anche una piccola gara di torte. Così come ci ha raccontato padre Leandro Giugno prima dell'inizio dei festeggiamenti. In realtà per noi è duplice la festa per San Paolo perché oggi solennizziamo la conversione di San Paolo. Si ricorda la conversione, cioè San Paolo che da persecutore dei cristiani anche lui diventa un cristiano e un apostolo addirittura dove porterà il Vangelo in tante parti del mondo. E quindi la nostra comunità è in festa. L'altra festa poi è il 29 giugno quando proprio ecco celebriamo la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Ecco anche oggi per noi però è festa. Infatti la nostra comunità parrocchiale un po' si è mobilitata. Ci siamo preparati con un triduo di preghiera, di preparazione al giorno della festa. E ogni sera abbiamo invitato i bambini battezzati durante l'anno, le famiglie della parrocchia che hanno rinnovato ecco le promesse matrimoniali e anche i ragazzi che quest'anno hanno ricevuto il sacramento della cresima e della prima comunione. Questa sera ecco adesso ci sarà la messa solenne e poi andremo nel salone dove ci sarà una gara di torte e anche una grande torta l'abbiamo preparata noi come parrocchia ecco per vivere un momento di fraternità, di amicizia. Ecco è bello che i fratelli stiano insieme. Bene era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al medio le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì quando sul Mediterraneo centrale sarà ancora isolata questa blanda zona di bassa pressione in quota alimentata adria fredda dal nord Europa e quindi ancora delle precipitazioni su parte del centro sud. Andiamo al dettaglio però che possiamo notare con questo focus Europa meridionale come le piogge ancora ruoteranno attorno al minimo di bassa pressione in spostamento dalla Sicilia verso l'Oionio. Ancora delle piogge quindi in giornata sul medio basso adriatico e poi anche le regioni meridionali. Il tempo invece sarà più soleggiato al nord seppur con un po' di nubi medio basse sull'angolo nord occidentale altrove più sole anche sulla Toscana. Tra l'altro qui le temperature e attenzioni di notte localmente sotto lo zero anche in pianura. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Scarantino Via Paolo Emiliani Giudici Servizio notturno Al Duomo Via Filippo Paladini Via Filippo Paladini Grazie a tutti.